ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo per questo nostro aggiornamento delle previsioni meteo diamo uno sguardo insieme all'Europa per il 25 aprile come vedete abbiamo ancora dell'instabilità dell'Europa centro settentrionale che porterà dell'aria fredda anche in Italia con un calo delle temperature e venti al centro sud. Andiamo infatti uno sguardo anche alla nostra penisola come vedete tende a migliorare al nord e i fenomeni si spostano proprio al centro sud e ora entriamo insieme nel particolare del settentrione come vi anticipavo cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque vi segnalo ancora qualche nota instabile in Emilia Romagna con fenomeni a carattere temporalesco possibili. Al centro instabilità lungo la dorsale appenninica dove vi segnalo anche l'importante dato del ritorno della neve sopra i mille mille duecento metri mentre migliora nel pomeriggio sulla Toscana. Infine al sud molto instabile ombrello da tenere insomma portata di mano sulle regioni peninsulari mentre va meglio sulla Sardegna e sulla Sicilia e in parte anche come vedete sul versante ionico. Per il momento da Trebi Meteo è tutto, aggiornamenti scaricando la nostra app per smartphone e tablet.